quan che cosa? movimenti chan non si vede come noi prima allena meditazione si vede fuori seduti da solo si senti da solo si senti quan che cosa vuoi dire? si vede attraverso movimenti si vede il livello che che i unire uno ferma uno uomini come unire? come unire? si può chuan come chan alena chan alena gusto alena intenzione tipo da dentro che cosa? non si vede non si vede la energia da solo si sente questo movimento perchè così? perchè così? cosa? perchè veloce? perchè lento? tendono a parare a colpire? tutto deve e invece cosa? ce zhan ce zhan questo? unire eh solo cultura non solo c'è solo kung fu ce zhan c'è tanti c'è tanti alla vita un po' di specializzazione di tutti e quindi attraverso l'allena del Kung Fu o conoscere, conoscere Zan. Scusa io, forse, questa cultura tradizionale, che cos'è tradizionale? Tradizionale non è inventato nessuna persona, ognuna generazione ha lasciato questa cultura. Non solo movimento, anche parola, io parlo in questa parola, autonome, questo non è inventato io, non è inventato maestro Hanzha, inventato di ognuna generazione. Io faccio uno di più, uno maestro di Kung Fu, lui allena una vita, una vita, allenare, studiare e dopo lui scrive altra cosa, rimanere un pezzo piccolo di cultura. E dopo, piano piano mettere insieme uno molto profondo, questa cultura, tipo arti marziali, guerrieri manufu, lanciare questa cultura di Kung Fu. Questo Kung Fu, entra in soli, soli tempi, fuori dalla porta, scritto, sotto cielo, prima del mondo. Allora, una persona è la vita, minimo 90 anni, finito. Perché? Perché è scritto prima del mondo, 1500 anni, prima del mondo, sotto del cielo. Questo è uno spirito, uno spirito. Una persona è forte, forte, 90 anni è ancora forte, non c'è forte. La bambina ha 3 anni, 5 anni è forte, non c'è forte. Questo anno deve vincere, cosa? Combattere, vincere, la prossima anno ancora vincere? No, non è sicuro. Questo è, cosa? Forza, 3 anni, 10 anni, minimo 30 anni, 20 anni. Ancora? No. Quindi, che cosa? Soli in Kung Fu. Questo, che cosa vuol dire? Prima del mondo, sotto del cielo. Si chiama Tie Giang Di, mi sa? Questo spirito, che cosa? Tipo questo arti marziale. C'è tanti stile. Ma Soli in Kung Fu dentro, prenderà tanti stile. Tanti generazioni, dinastie, guerra, attraverso guerra. Ma non c'è sempre uno con la spirito, spirito coraggioso, aiutare i popoli, vincere guerra. Proprio tranquillo. Questo spirito. Allora, e quindi tanti stile. Conoscere questo stile, questo cosa? Cultura, questo posto, Sauni. Questo spirito, grande. E quindi cosa? Loro. Faccio un esempio. Lui non è, prima non è un uomo. Ti sapevo. E lui, suo padre, suo nono, lasciato. Arti marziale. Quando lui sentire. Ah. Sono andato più. Cosa? 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 Spirito. Aiutare i popoli. Era. E quindi cosa? Guerra. Cosa? E tu? Scappare. Andare dove? Andare? Andare. Andare. Perché tu ti guerra. Tu dire. Io allena questo sciabolo. Perché io solo questo sciabolo. Perché mio padre ha insegnato a me. Mio nonno ha visto il mio padre. Ti faccio guardare. Guardare. Quindi sicuramente c'è la cosa. Forza. Che cosa è Kung Fu? Pratica sempre. Sudare tempo sempre è Kung Fu. Tu hai fatto tanti volte. Pratica bravo. E quindi tu lascia. Un altro lascia la lancia. Un altro lascia la lancia. Dopo unire uno. Grande filosofia. Uno scritto. Questo di. Cosa? Uno cultura. Questa cultura addizionale. Non di nessuno. Di cosa? Di. Noi tutti. Di noi tutti. Uno. Can. Attraverso Can. Importante. Come adesso questa società serve. Perché serve? Vivere questa società pesante. Perché pesante? Lavoro. Famiglia. Guadagna. Arrabia. Contento. Male mentale. Perché c'è la malattia? Prima. Attraverso mentale. Piano piano. Mangiare. Problema. Dormire. Riposto. Problema. Cominciare. La realtà. Si sente. Però si sente. Bisogna cosa? Attraverso. Mi dici. 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 Molto. Mi dici. Mi dici. Mi dici. Mi dici. Il secondo. Che preghiamo. tempo, noi passiamo.